Pronto? Sì, chi è? Salve, sono Alberto Rossi, la chiamo dall'Istituto di Salute Pubblica perché c'è un'allerta per Salmonella nel suo quartiere e varie persone sono state colpite e quindi stiamo chiamando tutte le persone del quartiere per scoprire quale può essere la causa. Le dispiacerebbe aiutarci con un breve questionario? Allerta Salmonella? Grazie, è molto gentile. E guardi, sospettiamo che quest'allerta di Salmonella sia dovuta a del cibo a domicilio in cattive condizioni. Sa se qualcuno a casa sua ha ordinato cibo a domicilio di recente? Non so, hamburger, kebab, pizza, cose del genere? No, niente, niente del genere, no. Ah ok, capisco. E senta, i sintomi cominciano con un po' di febbre, dolori di stomaco, diarrea. Sa se lei o qualcuno a casa ha avuto ultimamente questi sintomi? No. Bene, bene. E guardi, la cosa più importante per sapere se è stata infettata è vedere se quando va in bagno i rumori di flatulenza si sentono da fuori o no. Si sentono le sue scorreggine da fuori dal bagno? Ma scusi, ma lei... Bene, bene. Allora il suo caso è grave. Le inviamo un'equipe di specialisti per disinfettarla, va bene? Scusi, ma... Non si muova dal suo domicilio, ok? Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.